Amici oggi andiamo ad aprire insieme tantissime blind box che ho comprato a Milano insieme a voi Vediamo che sorprese troverò all'interno ma prima sigla YOLANDA SWITZ Hello everyone rieccomi tornata con un nuovissimo video come state spero tutto bene Come avete passato la vostra giornata spero bene Ciao amici io sono YOLANDA SWITZ ed oggi sono tornata con un nuovissimo video Dove andiamo ad aprire insieme tantissime blind box e misteri toy che ho comprato appunto a Milano In questo video non apro solo le blind box che avete visto nel video dove ho fatto gli acquisti a Milano Ossia queste qui di One Piece, Kuroomi eccetera Ma andiamo ad aprire insieme anche gli slime che ho comprato da Primark Ma prima di iniziare questo video ragazzi mi raccomando pollice in su Iscrivetevi al mio canale ed attivate la campanellina Perché tutti i giorni qui trovate i nuovissimi video alle 14.30 e alle 18 Capitemi sui miei social Instagram, TikTok e anche il mio sito che trovate il link in descrizione www.yolandaswitz.it Direi di cominciare perché sono un po' di cose che voglio aprire con voi Per aprire le blind box io ve le rimostro magari non so se molti hanno guardato il video precedente Magari ve le rifaccio vedere Abbiamo questa blind box qui grande che è di One Piece con tanti gadget all'interno Pagata 10€ Ho comprato un mazzo di carte di Ania Questa blind box ufficiale della Sarrio appunto di Kuroomi Abbiamo una spilla misteriosa di Atsunemiku Abbiamo tre slime Ora cominciamo Iniziamo forse dalla cosa più basic Pagata 2,90€ Abbiamo questa spilla misteriosa di Atsunemiku Sono super fan di Atsunemiku E la amo La amo tantissimo Vediamo quale spilla abbiamo trovato Spero una bella 3,2,1 Uh carina Proprio una spillona È gigante Questa è la spilla di Atsunemiku che abbiamo trovato Guardate quanto è carina La spilla dietro la posso attaccare sulla borsa Io adoro attaccare le spille non solo sugli zaini ma anche sulle borse con le quali esco Iniziamo ad aprire il primo slime D3 Questi qua comprati da Primark Vi ripeto se avete perso il video di Primark andatelo a recuperare 2,50€ Stretchy Slime Sand Quindi è una sabbia Stretchy È una sabbia elastica Ah che bella Tecnicamente come vi dicevo dovrebbe essere elastica e quindi molto compatta Non si dovrebbe sgritolare Profuma? No, no non profuma La sabbia è questa Sembra quasi uno snow slime Ma è fatto appunto con la sabbia Fortunatamente non perde pezzi Molto elastica devo dire Ovviamente non è scoppiettante È molto molto elastica Ragazzi mi piace tanto Guardate quanto Wow Bella, bella Mi piace molto ragazzi È proprio uno super slime questa Io ho voluto prendere la viola E devo dire che al prezzo di 2,50€ la quantità è anche grande Ora non c'è scritto quanto Questa sand Però ne è tanta Ne è veramente tante È una busta veramente gigante Quindi voto 10 Seconda cosa che voglio aprire insieme a voi Sono le carte di Ania Di Spy Family Voglio far vedere la faccia di Ania Quanto è carina Qui c'è Bond E dietro È fatto così Quanto è bello Al prezzo di 3,90€ Ovviamente mie Andranno nella mia collezione personale Vicino a tutte le cosine di Ania Si apre da qui Il pacchetto è olografico C'è un momento che sono accorta Raga il pacchetto è olografico Abbiamo Tutte le carte Non solo di Ania Attenzione Ma proprio di Spy Family E le carte ragazzi Sono olografiche Che belle No vabbè raga Bellissime Guardate qua il logo Spy Family Ce ne sono tantissime Ah ma c'è Yor Ania Che bella questa No vabbè raga C'è io Poi me le devo mettere a controllare tutte quante Perché sono spettacolari No vabbè Sclero Guardate Ania Quanto è carina con Chimera Bellissime Bellissime I 3,50€ Più ben spesi Della giornata Di quando ho comprato questo Non ho trovato nessun altro gadget di Spy Family Altrimenti avrei comprato anche altro Poi Cosa possiamo aprire? Questo qui Di Kuromi Oppure un altro slime Un altro slime Dai 3,50€ Comprato sempre da Primark Dovrebbe essere un mix and fun Patti mix and fun Perché Qui ci sono tutte queste stelline Che però vi dico Io non mischio Non voglio creare casini È un po' appiccico Ok Wow Attenzio Wow In che senso? Perdonami Allora È molto strano Come slime Allora Non costa poco Mi pare sui 12 Tutte le Kuromi che possiamo trovare Sono queste Sono pronte all'unboxing Apriamo Kuromi Fun Wraps di Poiler Perché qui Abbiamo Un mini specchio Qua abbiamo la nostra Kuromi Allora A quanto pare La Kuromi È molto molto piccola E sta qua dentro Vediamola ad aprire Vediamo Qual è Uuu Ma è bellissima Bellissima Kuromi make up Una Kuromi Del trucco Vediamo come si chiama In realtà Questa sulla checklist Che sta qua sopra Si chiama Happy fitting Kuromi happy fitting In realtà All'interno della scatola Cita la base E poi è uscito questo Che è un cubo Che deve essere montato Attorno Alla base Di Kuromi Qui va montata Kuromi Che Sta vicino Allo specchio È bellissima Ragazzi Stupenda Che ve lo dico a fare Spettacolo E attorno Tutto qui C'è bisogno Di montare Questo cubotto Per proteggerla Dai Molto bella Mi piace Mi piace Tanto Il mio voto Quindi È 10 Anche per questa Kuromi Adesso Apriamo L'ultimo Dei tre slime Che è questo Io ci spero tantissimo Perché se anche questo è bello Abbiamo svoltato Al prezzo di 3,50 euro Sempre comprato da Primark Di questa marca In realtà Che è Unio Essential Questo è molto Wow È un bon symbol Infatti si ragazzi Qua c'è scritto Bon sing Quindi Sapevo di non aspettarmi Niente di particolarmente Entusiasmante E infatti Lo slime È Questo Normalissimo Vi spiego Perché quando c'è scritto Bon sing Vuol dire che è uno slime Molto molto solido Molto duro E Questo è fatto apposta Per saltare Carino Carino Perché C'era specificato Che non era un fluffy slime Io ci spero sempre Che mettano i fluffy slime Da Primark È già un miracolo Che io abbia trovato questi Vai carini carini Il mio voto comunque è 10 Perché è super cute Prima cosa ad aprire Scatola gigante Di One Piece Ho comprato un po' per me Per farci il video Ma ovviamente Soprattutto per Daniele Perché è molto molto bella Siamo ad aprire la scatola Che già la scatola È splendida Apriamo Wow Quante cose Allora Prima di tutto qui C'è Un puzzle Senza la figura Io come faccio Forse la figura Che sta sulla scatola Probabilmente sì Non lo so Però è un puzzle Credo che sia Un zoro Con Rubber Con luffy Non lo so Poi abbiamo Questo Con rubber Ed è un quaderno A quadretti Meraviglioso Ancora Abbiamo Delle card Delle post card Non so Sì Delle post Ma quanto Sono belle Guardate Queste post card Quanto sono carine Mamma mia Raga Sono spaziali Che ve lo dico a fare Adesivi Che non c'entrano niente Con One Piece Le card Wow Ma queste Quando le vedete Daniele Impazzisce Che bello Uno stand Raga Che bello Questo stand Abbiamo uno stand Di Luffy Una Spill Sempre di Luffy rubber E Un portachiavi Di chopper Raga 9 euro E 99 Quindi 10 euro Ma non è finita qui Abbiamo Questa Foto Da esposizione Bellissima Ma vabbè Cioè Adoro Poi Questo che è Un Sempre un album Fotografico Foto album Di tutti i personaggi Appunto Di One Piece Abbiamo Una card Da colorare Di rubber No disturb Che belli La card Da un lato C'è Rubber E dall'altro C'è Zoro Uscite Molte più cose qui Rispetto alle altre box Che abbiamo comprato Comunque l'altra volta Ok amici Grazie a tutti Per aver visto questo video Spero che vi sia piaciuto Come sempre Io vi mando un bacione Un abbraccione Ci vediamo domani Alle 14 e 30 Con un nuovissimo video Ciao